Una vicenda trasferita, forzosamente non più risanata, che permette la realizzazione di aree adossumate della libertà. Qualcuno può trasversare rispetto all'asse e sul sito. Come opera di umanizzazione, sicuramente, alla definire la competenza anche, non soltanto per gli altri decimici del nostro Paese, e tra le più importanti, per definire altri 10.699 metri quadri, in una parte del lavoro, stiamo a pagare il progetto e dopo tanti giorni naturali, la realizzazione si avrà avanti poi con il resto del apposito protocollo di legalità, mirato anche sulla base delle... L'obiettivo di pervenire anche i risultati... ...la gara, esattamente, ce l'ha avuto, e guarda l'intorno della scuola... ...sai più consistente, di circa 3... ...ma quell'obiettivo di avviare un progetto... ...l'obiettivo raggiunto in questi quadri... ...la scuola e quindi siamo... ...elesificini su un sito via... ...forgetto non si è avvenuto se si vuole nuove aziende...